Torniamo in studio, ancora segnalazioni sullo stato del Camposanto di Via Vittorio Emanuele. Sporcizia e poco decoro stanno facendo lamentare chi si reca ogni giorno al cimitero in visita alle tombe dei propri cari. Viene chiesta non solo più pulizia da parte degli enti competenti, ma anche più educazione da parte delle persone che a volte incuranti, sporcano e non ripuliscono. Giungono ancora segnalazioni per quanto riguarda la condizione in cui si trova il cimitero cittadino. Sporcizia è un decoro che lascia molto a desiderare e sta facendo sollevare tante lamentele. C'è però da dire che chi mette in evidenza lo stato del Camposanto accusa le stesse persone che si recano in visita alle tombe dei propri cari, che spesso incuranti dei buoni comportamenti, abbandonano i residui di fiori secchio e addirittura marci a causa dello stare in acqua per terra. Questo invece di porle l'immondizia negli appositi contenitori. Succede anche per le cartacce e la plastica che lasciate in terra nei giorni di vento volano e creano un ricettacolo di rifiuti. Se ogni volta che il cimitero viene ripulito, poi la gente fa come vuole, pulendosi la sua parte e lasciando sporco il resto, non ci si può lamentare con gli operatori che si occupano della manutenzione, ha detto una signora. Lamentale anche sullo stato in cui viene lasciato il bagno delle donne. A volte non ci si può davvero entrare. Non racconto cosa ho visto l'altra volta, ma si può solo immaginare. Viene anche avanzata la proposta di lasciare le chiavi del bagno al custode o a qualcuno che possa fornirle in caso di necessità. Così forse la gente si preoccuperebbe di lasciarlo in condizioni decenti. Insomma, il problema resta lo stesso, ma oltre alla necessità di un servizio continuo di pulizia da parte degli enti preposti, questa volta viene puntato il dito anche sulle cattive maniere di chi, non preoccupandosi del decoro di un luogo come il Camposanto, lascia sporco e non si occupa di ripulire. Con una settimana di anticipo, lo Spazio Ti dedica il consueto aperitivo teatrale della domenica alla giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne e propone un reading dal titolo Non chiamateli, delitti passionali. Un tema attuale e importante che, come diceva Michele Serra nella sua rubrica L'Amaca, qualche tempo fa con la passione non hanno nulla a che fare. Un'occasione per riflettere sulla condizione della donna nel mondo, un omaggio alle 101 donne morte nel 2012 assassinate da uomini solo nell'ultimo anno. L'inizio del reading è previsto per le 19. Considerando il numero limitato di posti, l'organizzazione consiglia intanto la massima puntualità. Per l'aperitia è richiesto ai soci un contributo di 3 euro e per l'occasione l'organizzazione propone una speciale campagna di tesseramento al prezzo scontato di 5 euro. Lo sport, settima giornata di campionato per la Serie A2 femminile, la Mercedes reduce dalla vittoria con Biassono, domani affronterà sul parquet casalingo del Palacorbia la formazione dell'OMC Cignoli Broni. Le due formazioni sono distanti, in classifica due punti. Dopo aver sbancato il parquet di Biassono, la Mercedes Alghero torna al Palacorbia per disputare la settima giornata del Girone Nord del campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile. Alle ore 19, sotto la direzione degli arbitri Vito Modesto Stoppa di Bari e Marcello Aprea di Napoli, le ragazze di coach Claudio Cao incontreranno l'OMC Cignoli Broni. Sono solo due i punti che separano la Mercedes, che occupa solitaria la sesta piazza della classifica con 4 vittorie e 3 sconfitte, dalle pavesi di coach Paolo Fassina, settime con 3 vittorie e 4 sconfitte, a pari punti con il basket San Salvatore Selargius, del Serudine e Interclub Muggia. Le avversarie sono raduci dal 55-38 Casalingo, rifilato alle istintori Manzi Cremona sul parquet del Palaverde Gianni Brera. Staremo a vedere se domani le bianco-azzurre continueranno la striscia positiva, bissando in casa il successo di sette giorni fa in Brianza. Alghero è una città che può vantare due formazioni di calcio in eccellenza, una di basket femminile in Serie A, come avete visto, e una di rugby, sempre in Serie A. Per questo fa piacere notare come proprio una via della nostra città sia stata dedicata alla palla ovale. Forse non tutti sanno, almeno coloro che non hanno il rugby come primo sport da tifare, che una delle traverse di Viale Primo Maggio, a fianco all'Istituto d'Arte Costantino, c'è una via che è stata nominata Via degli Amici del Rugby. Una curiosità che ha fatto con piacere il modo della palla ovale giallorossa, ma che ha anche fatto incuriosire e sorridere diversi turisti che passeggiando in quella zona, vista la pineta e il mare, hanno notato l'intestazione della via. La denominazione non è stata data naturalmente a caso, visto che proprio su quella strada è presente uno dei due ingressi all'impianto di Maria Pia, da sempre Casa dell'Amatore Nova Qualguero, che sporta il nome della nostra città in tutta Italia. Era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.